Stagione balneare alle porte ma i problemi ovviamente per quanto riguarda spiaggia e litorale rimangono. Qui a Pineto dovrebbero partire al più presto i lavori per il ripascimento, le ruspe già sono al lavoro, dovrebbe essere presa dalla sabbia appunto della foce del Calvano. Sì, questo è un intervento che ovviamente aveva programmato e sta realizzando, sta eseguendo il comune di Pineto. L'amministrazione comunale abbiamo affidato estrazione di ulteriori all'incirca mille metri cubi di sabbia che si uniranno ai 3.000 dei quali siamo già depositari in forza dell'appalto che abbiamo seguito l'anno scorso con i 100.000 euro di finanziamento regionali presso l'avanporto di Pescara. Questa è la sicurezza, il dato certo, obiettivo, cioè avremo a disposizione 4.000 metri cubi di sabbia che provvederemo a utilizzare sulla parte più erosa, più esposta ai fenomeni erosivi, che è quella della Pineto a Catucci. Questo credo all'incirca per la fine di questo mese è un obiettivo che possiamo realizzare. Il problema di fondo che resta, soprattutto in una spiaggia, in un litorale particolare come quello di Pineto dal punto di vista ambientale per la contiguità con l'area marina protetta, è capire effettivamente se c'è spazio anche per il ripascimento promesso, sbandierato dalla regione. della qualcosa ho cominciato a dubitare perché non ci sono comunicazioni ufficiali di alcun tipo e mi giungono notizie che il mega ripascimentone in realtà stia un po' battendo il passo e quindi probabilmente gli ulteriori 8.500 metri cubi promessi non arriveranno. Siamo ovviamente attenzionando la questione, quindi speriamo di avere notizie ufficiali a stretto giro in maniera tale eventualmente da organizzare un solo intervento di ripascimento in un'unica soluzione e dare finalmente via in maniera definitiva alla stagione turistica.